Ciao ragazzi, allora mi trovo in un paese del quale adesso non ricordo il nome. Ho piantato la tenda qua vicino, a riva di un fiume, perché sono stato un babbo oggi. Sono arrivato molto presto, ma mi sono dimenticato ad andare a chiedere per i posti letto. E sono rimasto senza. Allora abbiamo piantato la tenda, sono con tre ragazze israeliane e una austriaca, le quali mi hanno appena dato una fantastica notizia, domani mattina alle 6 comincia a piovere e la mia tenda non è attrezzata per stare sotto l'acqua, quindi mi dovevo sbrigare, svegliarmi molto presto e fare su tutto l'importanza di riposare la notte. In questo video voglio farvi riflettere su uno dei punti cardine del cammino. Non è importante il paesaggio, in sé il percorso o altre cose riguardanti questo posto. La cosa importante, secondo me, è una cosa che ho riscontrato parecchio nelle persone che ho incontrato. Nelle persone che ho incontrato è che ogni qualvolta io incontro qualcuno, mi sorride, prima cosa, e mi dice buon cammino, hola, hi, come stas, mille cose, ma soprattutto mi sorride. Cioè io qua sono in mezzo a gente che veramente sta facendo una fatica allucinante, sono stanchi morti, piove, c'è il sole stracaldo, tira vento, non lo so, c'è male ai piedi, c'è male alla schiena, c'è male a tutto, per non essere volgare. E nonostante tutto la gente mi vede e mi sorride. Cioè se io penso a quando siamo, ma non dico tanto, cioè proprio anche solo nella nostra città, che stiamo facendo quattro passi, incontriamo qualcuno che conosciamo, non conosciamo, e lo salutiamo. Come lo salutiamo? Uè, ciao, musilunghi, cazzo c'è da essere triste, figlio, noi siamo qua che stiamo camminando, fiacche cose, la prima cosa che, cioè, la gente mi vede a essere qua a tirare bestemmi, invece qua a pregare. Ma che cazzo c'è per la testa, per essere così preso male e non fare un sorriso? Cioè, qua la gente, se, alza lo sguardo, ti saluta, hola, hi, buon cammino, cioè roba che se, invece se sei in giro che stai camminando in giro per la tua città, sai che guardi per te, fai i cazzi tuoi, tutto preso male. Cioè, qua la gente si alza la testa, ti saluta, perché se non sta tentando di mettere i piedi, finisce con un sasso fra i denti, e nonostante tutto alza la testa, ti fa un bel saluto, ti dice come va, ti dice buon cammino, e ti sorride soprattutto. Cioè, in questo messaggio, ragazzi, voglio comunicarvi l'importanza del sorridere alle persone che stiamo trovando. E niente di più. Buonanotte, qua già tardi.